Cari amici, ciao! Questa mattina vi porto a fare un giratto in Cernusco a vedere una strada un po' particolare dalla via Leonardo da Vinci. Sono le 10 di mattina e la imbocchiamo dall'incrocio con via Monza. Volevo farvi notare la prima cunetta. Hop, 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 sono tutti i tombini, hop, 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 e adesso incomincia il bello. Hop, 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 qui siamo sulla piazza del silenzio degli innocenti, ormai anch'essa come si vede tutta ingobbata, nonostante sia stata rifatta parecchie volte. Hop, 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 ecco un altro bel colpetto, hop, e andiamo verso un tracciato, forse, hop, hop, più liscio. dico forse, hop, 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 cunetta, hop, hop, rotonda dell'incrocio con la via San Rocco, hop, e qui arriviamo un bel hop, 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 naturalmente quando dico hop c'è il colpetto delle cunette o dei tombini, il servizio che fa il proprio dovere di pulizia, hop, 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 la famosa piattaforma che c'è, hop, 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 questa è una delle poche rotatorie lisce, forse perché è fatta con semplice asfalto, hop, 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 hop Così forse dà più senso delle gobe di cammello Cunettina Cunettona Tombino Cunettona Tombino 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 Soprelevata Discesa Tombino Serie di tombini Tombino Tombino Tombone Tombino 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 Soprelevata Micidiale Decidiale Discesa Tombino 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 Tombino, buca, tombino, 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 ed ecco che siamo ritornati al punto di partenza, con l'ultimo, con l'ultima gobba. Cernusco, il paese delle gobbe, Cernusco, il paese del camel trophy, Cernusco, il paese dove si rovinano le spine dorsali, bye bye. Grazie a tutti.